Ma non cambiato, perché tu hai tolto di mezzo, metto i nomi a caso, hai tolto di mezzo Salvatore Esposito che aveva fatto 60 anni di guai a Marano e hai messo il figlio di Salvatore Esposito perché altri 60 anni di guai venga a fare la nostra città. Ha messo dentro tutti i figli degli imbroglioni che hanno governato Marano fino negli ultimi 10 anni, però sono giovani e sapete perché ha preso questi 19 anni? Semplicemente perché ha fatto le liste quando gli asili erano chiusi, se no andava a prenderli all'asilo per ingiovanire ancora un po' di più.